Torna alla piscina Scandone il grande nuoto agonistico col Grand Prix Città di Napoli, la competizione nazionale giunta alla quinta edizione che per due anni si era fermata per la pandemia. Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo, la manifestazione si svolgerà sabato 28 e domenica 29 maggio nell'impianto di Fuorigrotta ed ospiterà oltre mille atleti provenienti da tutta Italia, fra cui nove nuotatori che prenderanno parte ai prossimi mondiali di Budapest. Ripartiamo con questa quinta edizione con tanti protagonisti della nazionale italiana che saranno in basca alla Scandone, non mancheranno i personaggi, non mancheranno i campioni, ci saranno delle sfide avvincenti e ci sono anche in pali gli ultimi posti per le qualificazioni ai campionati internazionali, quindi sicuramente un bello spettacolo che vede Napoli protagonista. Patrocinato dal Comune di Napoli, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Grand Prix. Avremo davvero dei campioni e finalmente possiamo sperare che la Scandone cominci ad essere quello che speriamo diventi un polo di eccellenza natatorio per la città di Napoli e possa portare come porterà già stavolta un indotto consistente, perché se pensate che vengono 64 società con 1000 notatori e circa insieme agli accompagnatori ne sono 2000, incominciamo come è stato per il Giro d'Italia a vivere un po' e a far sentire cosa significa il turismo sportivo in questa città.